di testa, di Graham. La Svezia che ha due punti meno di noi nel girone di eliminazione per la Coppa d'Europa e questa è l'ultima partita, ha una sola possibilità, vincere questo incontro e sperare poi in un risultato a noi contrario nella partita con l'Austria. Mazzola, ha conquistato un bel padone a grip, Mazzola, la perdone per Riva, Mazzola arriva, l'Italia in vantaggio dopo due minuti. Buon insegno a Venetti, Riva in fuori gioco. Calcio di punizione in favore della Svezia, era nettamente in fuori gioco Riva al momento del pallonetto indirizzato gli da Benzini. Rivera, Bertini, Buon insegna. Bellissima l'azione a Durra, tutta passaggi precisi, Setti di prima, tiro di Buon insegna e parata di Heldstrom, tiro forte, Setti raccoglie un passaggio in avanti della difesa tedese. Rivera, Riva, Buon insegna. C'entrava una botta a colpo sicuro e il portiere è con il piede. Il palleggio trasforma subito la piazione difensiva in offensiva. Buon insegna, ingannato un po' da un rimbalzo della palla. E' arrivato anche Mazzola, tiro di Mazzola e il panchiere si arriva sbilanciato perché era stato rimesso in gioco di Facchetti, il passaggio a Mazzola, indietro a Bertini. Venetti. Riva. Buon insegna. Ed è il raccoglio, finalmente. Bellissima intesa, Buon insegna, Riva. La rimessa in gioco di Bertini. Colpo di testa di Mazzola, Riva. Palla molto bene, forte, Riva al volo. La palla colpita dal pass in alto, passa. Il tiro della pagnolina di Rivera. Pallo di Riva, che si è appoggiato sulle spalle di Nordkvist. Rivera. Colpo di testa di Buon insegna, che schiaccia la palla in terra. Era fuori dalla portata di Hellstrom. Ma passa Nordkvist. Bella l'azione svedese, questa volta in profondità. Grip. Gli svedesi mancano un'azione lavorosa per accorciare le distanze. Ma forse l'ultimo che ha toccato la palla è precisamente Sandro. Corso, che manovra la sua prima palla. Riva. Un canto molto bello di Riva. Sull'uscita del quartiere, devia bene, ma la palla va in diagonale, fuori dalla parte opposta. Dunnington va a te. Il tiro della bandierina. Corso, che manovra la sua prima palla. per Vito Rivera sulla destra. Palla al centro per Buon insegna, che la contista sulle spinta di Kronqvist. Ancora Rivera. Spinta di Buon insegna, Riva. E sono tre, finalmente. Spinta di Buon insegna che ha mandato... ...dolentemente dal risultato, che può essere di 0-0, 1-0, gli svedesi o 3-0, continuano il loro identico gioco, fatto di passaggi laterali, alla ricerca di un affondo che non viene mai. Ecco il cross di Kronqvist. Graham e Albertotti compie una splendida parata. Appugno sul tiro ravvicinato.